Allora, se volete prendere posto, cominciamo, buonasera, non potevamo che avviarci a concludere meglio questa giornata con un ricordo di Natalia Ginzburg a cent'anni della nascita affidato a due grandi attori ai quali tanto dobbiamo. Io sono così vecchio che mi ricordo benissimo quando nella magica primavera del 63 in cui è uscita una miriade di capolavori impressionanti è uscito Lessico Familiare, oggi qualsiasi altro editore sarebbe inorridito davanti a questo titolo Lessico Familiare, ma siamo matti. Naturalmente Giulio Einaudi non ha fatto una piega e d'altra parte anche se non fosse stato d'accordo sarebbe stato impossibile smuovere Natalia perché Natalia aveva delle idee molto precise e a quelle stava. Come sapete da allora la sua voce continua a risuonare in un suo timbro di perfezione assoluta. I libri, i romanzi di solito invecchiano abbastanza rapidamente Lessico Familiare e i suoi romanzi sono lì perfetti, fuori dalle ingiurie e dalle malinconie del tempo e credo che le letture di questa sera ve lo confermeranno. Voglio salutare Alessandra Ginzburg che è qui con noi insieme a Carlo Ginzburg, suo fratello. Carlo è un grande storico, devo dire che voglio voglio loro bene come dei parenti strettissimi, tutti noi vogliamo loro bene e a questo punto non mi resta che chiamare sul palco i due protagonisti di questa sera, non senza prima aggiungere che Chiara Valerio ci darà una piccola cornice di inquadramento per poter meglio gustare queste letture. E dunque chiamo qui sul palco dell'ingotto Nanni Moretti e Margherita Bui Chiara cominci tu. Buon pomeriggio dalla sala dei 500, sono curiosa di sapere se davvero ci sono 500 posti, siamo qui per ascoltare la lettura fatta da Nanni Moretti e da Margherita Bui, ma li vedete d'altronde, da caro Michele e Lessico Familiare di Natalia Ginzburg. Gli audiolibri di Nanni Moretti e di Margherita Bui, le loro voci registrate sono editi dalla casa editrice di audiolibri Emmons e che ha registrato anche perché sono proprio attaccati alla figura di Natalia Ginzburg e anche alla sua filodiffusione con le piccole virtù lette da Giovanna Mezzogiorno. Vorrei cominciare senza nessuna prolusione critica leggendo una frase, un'osservazione dalla cura, dal saggio di Domenico Scarpa, ovviamente ho messo il segnalibro ma ho sbagliato pagina, però l'ho ritrovato. Domenico Scarpa scrive in questo libro appena uscito per i tipi di Enaudi dove sono raccolti editi e inediti di Natalia Ginzburg. Domenico Scarpa osserva poi amano Natalia Ginzburg gli attori e i registi, le persone che lavorano con il corpo e per le quali le parole sono un membro del corpo, un organo di senso, come le vibrisse dei gatti, una materia che possiede perlomeno tre dimensioni e che si può toccare e manipolare. Senza toccare e manipolare Nanni Moretti leggiamo legge da Caro Michele. Caro Michele, ti scrivo soprattutto per dirti che tuo padre sta male, vai a trovarlo, dice che non ti vede da molti giorni. Io ci sono andata ieri, era il primo giovedì del mese, lo aspettavo da Canova e lì mi ha telefonato il cameriere che lui stava male. Così sono salita su, era a letto, mi è sembrato molto sciupato, ha le borse sotto gli occhi e un brutto colore, ha dolori alla bocca dello stomaco, non mangia più niente, naturalmente continua a fumare. Quando vai a trovarlo, non portare lì le tue solite 25 paia di calzini sporchi. Quel cameriere che si chiama Enrico o Federico, non mi ricordo, non è in grado di sopportare il peso della tua biancheria sporca in questo momento. È stranito e intontito, non dorme la notte perché tuo padre chiama, in più è la prima volta che fa il cameriere perché prima lavorava in un elettrauto, in più è un completo cretino. Se hai molta biancheria sporca, portala da me. Ho una donna di servizio che si chiama Cloti, è venuta cinque giorni fa, non è simpatica. Siccome il muso ce l'ha sempre e la situazione con lei è già pericolante, se tu arrivi qui con una valigia di roba da lavare e stirare non me ne importa molto e puoi farlo. Ti ricordo però che esistono buone lavanderie anche lì vicino allo scantinato dove tu vivi e tu sei in età di occuparti di te stesso da solo. Tra poco avrai 22 anni. A proposito, oggi è il mio compleanno. Le gemelle mi hanno regalato delle pantofole, però io sono troppo affezionata alle mie vecchie pantofole. Volevo ancora dirti che se ti lavassi da te ogni sera a fazzoletto e calze invece di ammucchiarli sporchi sotto il tuo letto per settimane sarebbe bello, ma questo non mi è mai riuscito di fartelo capire. Io ho aspettato il medico, è un certo povo o covo, non ho ben capito. Abita al piano di sopra, cosa pensa della malattia di tuo padre? non l'ho capito. Dice che è all'ulcera e questo lo sapevamo. Dice che bisognerebbe portarlo in una clinica, ma tuo padre non vuole saperne. Forse pensi che io dovrei trasferirmi in casa di tuo padre e assisterlo. Anch'io lo penso, ma credo che non lo farò. Ho paura delle malattie, ho paura delle malattie degli altri, delle mie no, ma io però non ho mai avuto grandi malattie. Quando mio padre aveva la diverticolite ho fatto un viaggio in Olanda, ma lo sapevo benissimo che non era diverticolite, era cancro. Così quando è morto io non c'ero, ne ho rimorso, ma è vero che a un certo punto della nostra vita i rimorsi li insuppiamo nel caffè la mattina, come biscotti. Poi se io arrivassi lì domani con la mia valigia, non so tuo padre che reazione avrebbe. Da molti anni è diventato timido con me, anch'io con lui sono diventata timida. Non c'è niente di peggio della timidezza tra due persone che si sono detestate. Non riescono a dirsi più niente. Sono grate una all'altra di non ferire e non graffiare, ma una simile specie di gratitudine non trova la strada delle parole. Dopo la nostra separazione tuo padre e io abbiamo preso quella noiosa e civile abitudine di incontrarci a prendere il tè da canova ogni primo giovedì del mese. Era un'abitudine che non assomigliava né a lui né a me. Ce l'aveva consigliato quel suo cugino Lillino che fa l'avvocato a Mantova e lui quel suo cugino lo ascolta sempre. Secondo suo cugino noi due dovevamo mantenere dei rapporti corretti e incontrarci ogni tanto per discutere dei comuni interessi. Però quelle ore che passavamo da Canova erano un tormento per tuo padre e per me. Siccome tuo padre è una persona metodica nel suo disordine, aveva stabilito che dovevamo restare a quel tavolino dalle cinque alle sette e mezzo. Ogni tanto sospirava e guardava l'orologio e questa era per me un'umiliazione. Se ne stava sdraiato all'indietro sulla sedia e si grattava la sua testaccia nera scompigliata. Mi sembrava una vecchia pantera stanca. Parlavamo di voi. Però a lui delle tue sorelle non gliene importa niente. La sua stella sei tu. Da quando tu esisti si è cacciato in testa che sei l'unica cosa al mondo che sia degna di tenerezza e di venerazione. Parlavamo di te. Ma lui diceva subito che io di te non avevo mai capito niente, che lui solo ti conosce a fondo. Così il discorso era chiuso. Avevamo una tale paura di contraddirci che ogni argomento ci sembrava pericoloso e lo buttavamo via. Voi lo sapevate che noi ci incontravamo lì quei pomeriggi, ma non sapevate che a consigliarcelo era stato quel suo maledetto cugino. Mi accorgo che ho usato l'imperfetto, ma in verità penso che tuo padre stia molto male e che non ci incontreremo mai più da Canova ogni primo giovedì del mese. Caro Michele, ieri sera è venuto Osvaldo e mi ha detto che sei partito per Londra. Sono rimasta sbalordita e stravolta. Osvaldo ha detto che ti sei affacciato un momento da tuo padre per dargli un saluto, ma dormiva. Ti sei affacciato. Cosa vuol dire che ti sei affacciato? Forse tu non ti sei reso conto che tuo padre sta così male. Quel povo o covo ha detto che oggi deve entrare in clinica. Ti servivano camice e roba di lana. Osvaldo dice che pensi di rimanere là per tutto l'inverno. Mi potevi dare un colpo di telefono. Mi chiamavi al posto pubblico in paese come altre volte hai fatto. Certo, se non mi mettono il telefono qui impazzirò. Io sarei venuto all'aeroporto e ti avrei portato dei vestiti. Osvaldo dice che sei partito con i calzoni di fustagno e la maglia rossa e niente o quasi niente per cambiarti. Tutta la tua biancheria, dice Osvaldo, pulita e sporca e rimasta nello scantinato. Non si ricordava se avevi l'Oden o se non lo avevi. Tutta un tratto si è ricordato che lo avevi. Questo mi ha dato un poco di conforto. Dice che gli sei capitato in casa la mattina presto. Secondo lui l'idea di partire per Londra e frequentare lì una scuola di scultura era un'idea che tu macinavi da un pezzo. Ti scrivo a questo indirizzo che mi ha dato Osvaldo, ma lui dice che è provvisorio. Il fatto che Osvaldo conosca un poco questa signora anziana che ti dà la stanza mi rassicura un poco, però pochissimo. Non devi credere che io non abbia capito che la tua è stata una fuga. Idiota non sono. Ti prego scrivimi subito e spiegami chiaro da cosa volevi fuggire o da chi. Osvaldo non è stato chiaro. O non voleva dirmelo o non lo sapeva. Caro Michele, ricevo ora la tua breve lettera. Non so cosa ti abbia impedito di venire giù quando è morto tuo padre. Non riesco a immaginare niente che possa impedire a una persona di ritornare quando c'è una disgrazia. non capisco. Mi domando se verrai giù quando io morirò. Sì, ai vari parenti abbiamo detto che eri a Londra con la polmonite. Che tu vada nel Sussex io sono contenta. Ci deve essere un'aria molto buona e io sono sempre contenta quando so che siete in campagna. Quando eravate piccoli mi ammazzavo di noia nelle villeggiature per mesi e mesi pensando che ogni giorno di più in campagna era un beneficio per voi. Dopo, quando tu sei rimasto con tuo padre, impazzivo all'idea che tante volte lui ti faceva stare a Roma in piena estate. Lui non amava la campagna e amava solo il mare. Ti mandava la mattina a Ostia con la donna di servizio e diceva che andava bene così. Non mi dici se devi anche cucinare per questo professore di glottologia. Scrivimi se devi cucinare e ti manderò delle ricette. Matilde ha un grosso quaderno dove incolla tutte le ricette che trova sui giornali e sui calendari. Tu mi dai il tuo numero di telefono nel Sussex ma dovrei telefonarti dal posto pubblico perché ancora non mi hanno messo il telefono. Il posto pubblico è un'osteria, è sempre pieno di gente. Io ho paura di mettermi a piangere se ti telefono. Lì non è un posto adatto per telefonare e piangere. La morte di tuo padre mi ha colpito duramente. Io adesso mi sento molto più sola. Non mi dava nessun appoggio perché non si interessava a me. Non si interessava nemmeno alle tue sorelle. gli importava solo di te. Il suo affetto per te sembrava rivolto non a te ma a un'altra persona che si era inventato e che non ti rassomigliava a niente. Non so spiegarti perché mi sento più sola da quando è morto. Forse perché avevamo in comune delle memorie. Queste memorie le avevamo solo io e lui al mondo. È vero che non usavamo farne parola quando ci incontravamo però mi rendo conto adesso che non era necessario farne parola. Esse erano presenti in quelle ore che passavamo al caffè Canova e che io trovavo oppressive e interminabili. non erano memorie felici perché io e tuo padre non siamo stati mai molto felici insieme e anche se siamo stati brevemente e raramente felici tutto poi è stato sporcato, calpestato e travolto. Ma non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita ci si accorge che si amano le memorie. Ti sembrerà strano ma io non potrò più entrare al caffè Canova perché se entrassi là mi metterei a singhiozzare come una cretina e se sono sicura di una cosa e che non voglio piangere davanti alla gente. Cara Angelica, ti scrivo una cosa che forse ti lascerà stupita. Mi sposo. Ti prego di andare all'agenzia di piazza San Silvestro e richiedere i documenti necessari. Non so quali documenti ci vogliono. Mi sposo appena avrò i documenti. Sposo una ragazza che ho conosciuto a Leeds. Veramente non è una ragazza perché è divorziata con due bambini. È americana e insegna fisica nucleare. I bambini sono carini. Io amo i bambini. Non quelli molto piccoli ma quelli che hanno sei o sette anni come questi qua. Li trovo molto divertenti. Non ti sto a raccontare com'è questa ragazza che sposerò. Ha trent'anni. Non è bella? Agli occhiali? È molto intelligente. Io amo l'intelligenza. Sembra che riuscirò ad avere un lavoro. Cercano un insegnante d'italiano in un collegio di ragazze sempre qui a Leeds. Sinora ho lavato i piatti in un altro collegio dove insegnava la ragazza con cui ero venuto, Josephine. Potete scrivermi ancora presso la madre di Josephine. Non ho ancora un appartamento ma lo cerco. Aileen, questa ragazza che sposo, vive con i suoi genitori e i bambini e la casa è piccola. Non c'è posto per me. Ho una stanza in una pensione di cui non vi do l'indirizzo perché cambierò. Forse scriverò anche alla mamma. Però intanto comincia a dirglielo tu. Diglielo lentamente perché sono di quelle notizie che la sconvolgono. dille di stare tranquilla perché ho riflettuto. Forse verremo in Italia nelle vacanze di Pasqua e così potrete conoscere Aileen e i bambini. Ti abbraccio. Velocemente mandami i documenti. Michele. Caro Michele, Angelica è qui da me e mi dice che ti sposi. Mi dice che tu le hai detto di dirmelo lentamente in modo da non sconvolgermi. Me l'ha detto invece rapidamente e subito, appena entrata nella stanza. Angelica mi conosce meglio di te. Sa che io sono così perennemente sconvolta che niente mi sconvolge più. Ti sembrerà strano ma io non mi stupisco e non mi spavento più di niente essendo in uno stato perenne di spavento e stupore. Da dieci giorni sono a letto malata, per questo non ti ho più scritto. Ho chiamato il dottor Bovo, quel medico di tuo padre che abita via San Sebastianello al quarto piano. Ho una pleurite. Mi sembra immensamente strano scrivere ho una pleurite perché non ho mai avuto niente nella mia vita e mi sono sempre considerata fortissima. Ad ammalarsi erano sempre gli altri. Angelica mi ha fatto leggere la tua lettera. Alcune frasi di questa lettera mi hanno stupito, benché io sia, come ti ho detto, ormai essenzialmente immune dallo stupore. Io amo l'intelligenza, io amo i bambini. A dirti il vero ignoravo che tu amassi l'intelligenza e i bambini. Queste frasi mi hanno lasciato però un'impressione fondamentalmente positiva, come se tu finalmente cercassi di raggiungere la chiarezza e la risolutezza, come se tu finalmente cercassi di fare delle scelte definitive. Mi rallegro di rivederti a Pasqua e di poter conoscere tua moglie e questi suoi bambini. La prospettiva di avere dei bambini in casa mi affatica al solo pensarci, ma siccome ti rivedrò vi accoglierò tutti con grande gioia. Il fatto che questa donna che tu sposi abbia 30 anni non mi sembra un fatto negativo. Tu evidentemente hai bisogno di aver vicino una donna più vecchia di te, hai bisogno di affetto materno. Questo perché quando eri piccolo tuo padre ti ha tolto a me, Dio lo perdoni. Se esiste Dio, cosa che forse non è del tutto da escludere. Penso certe volte quanto poco insieme siamo stati, tu ed io, e quanto male ci conosciamo, quanto superficialmente tu mi giudichi e io ti giudico. Io ti trovo tanto balordo, ma non lo so se veramente sei balordo o invece oscuramente savio. Cara Angelica, ho avuto i documenti e ti ringrazio. Mi sono sposato mercoledì. Ho saputo che la mamma è malata e me ne dispiace. Spero che non sia niente di molto serio. Ailine e io abbiamo trovato una piccola casa a due piani in questa Nelson Road, che è una strada sterminata di casette tutte identiche. Abbiamo due metri di giardino, che io coltiverò a rose. Ringrazio la mamma per i denari, le camicie e il vestito scuro, che non ho messo il giorno del matrimonio, ne mai metterò. L'ho appeso nell'armadio, con naftalina. Ailine va all'università il mattino presto e accompagna a scuola i bambini. Io esco un poco più tardi. Metto la casa in ordine, sciacquo i piatti della colazione e passo il rullo sulla moquette. Ho saputo che Viola ed Elio volevano venire al mio matrimonio. L'ho saputo da quel solito parente della signora Peroni, che mi sono visto capitare alla pensione dove stavo fino a ieri l'altro. Per fortuna non sono venuti, per fortuna non è venuto nessuno di voi. Io non è che non ho voglia di rivedervi, vi rivedrei tutti molto volentieri, ma per il matrimonio abbiamo fatto le cose così in fretta e senza darci peso che Viola ed Elio e anche voi, se foste venuti, sareste forse rimasti delusi. Dì a Oreste che mia moglie è iscritta al Partito Comunista, è uno dei pochissimi comunisti che ci sono qui. Io continuo a non essere comunista, continuo a non essere niente e ho perso i contatti con quegli amici che avevo a Roma e non so più niente di loro. Pensare che sono partito anche per ragioni politiche, non solo per quello, ma anche. Ma non mi sarebbe facile dire perché sono partito. Comunque ora non mi occupo di politica, se ne occupa mia moglie e questo mi basta. Mi servirebbe un libro, La critica della ragion pura, di Kant. Vedi se puoi andarlo a cercare nel mio scantinato, ammesso che lo scantinato ancora esista e che possa ancora chiamarsi mio. Ti abbraccio, Michele. Caro Michele, Angelica mi ha detto che non verrai per le vacanze di Pasqua. Pazienza. Ormai le volte che ho detto pazienza pensando a te sono infinite. È vero che più passano gli anni e più si accrescono le risorse della nostra pazienza. Sono le sole nostre risorse che si accrescono. Tutte le altre tendono a prosciugarsi. Avevo messo in ordine le due stanze all'ultimo piano. Avevo preparato i letti e appeso gli asciugamani nel bagno. Il bagno all'ultimo piano è il più bello della casa, con le maioliche ad arabeschi verdi e nel guardarlo ero contenta che lo vedesse tua moglie. Le stanze sono ancora là in perfetto ordine, con i letti pronti. Io non ci sono più entrata. Dirò a Cloti di tornare e di sfare i letti. Mentre preparavo quelle due stanze pensavo che tua moglie si sarebbe sentita a suo agio. E anche pensavo che avrebbe trovato che io tengo bene la casa. Erano però due pensieri stupidi. Perché io non conosco tua moglie. Non so quando e dove si sente a suo agio. E non so se è di quelli a cui piacciono le case tenute in ordine e le persone che tengono in ordine le case. Angelica mi ha detto che invece te ne vai a Bruges. Io non mi chiedo cosa vai a fare a Bruges. Perché ormai ho smesso di chiedermi cosa vai a fare in un luogo o nell'altro. Io cerco di immaginarmi in un luogo o nell'altro la tua vita. Però nello stesso tempo sento che la tua vita è diversa da come immagino. E così la mia fantasia è sempre più sfiduciata e più fiacca nell'intrecciare i suoi arabeschi. Vorrei venire a trovarti con Angelica se questo ti fa piacere. Non verremmo a stare a casa vostra perché non voglio dare fastidio a tua moglie che penso abbia sempre molto da fare. Andremo in albergo. Io non amo i viaggi e non amo nemmeno gli alberghi. Però preferisco ancora gli alberghi alla sensazione di dare fastidio occupando spazio in una casa piccola. Perché una delle pochissime cose che so di voi è che avete una casa piccola. Non posso partire adesso perché non sono ancora guarita bene da quella pleurite. Cioè non ho più la pleurite ma il medico dice che devo ancora usarmi dei riguardi. Ha anche trovato che ho il cuore in disordine. Tu spiega a tua moglie che io sono una che ha la casa in ordine e il cuore in disordine. Spiegale come sono perché così quando mi vedrà potrà confrontare la mia vera immagine con le tue descrizioni. È uno dei rari piaceri che ci offre la vita confrontare le descrizioni degli altri con le nostre fantasie e poi con la realtà. A tua moglie io penso spesso e cerco di immaginarla anche se tu non ti sei curato di descriverla. E quella fotografia di lei che mi hai mandato quando hai scritto che ti sposavi è piccola e confusa. La guardo spesso ma non riesco a vedere niente salvo un lungo impermeabile nero e una testa avvolta in un foulard. A me non scrivi mai ma sono contenta che scrivi ad Angelica. Penso che ti viene più naturale di scrivere a lei perché con lei hai più confidenza che con me. Forse sono ottimista ma penso che rivolgendoti a lei ti rivolgi segretamente anche a me. Angelica è molto intelligente e io credo che sia la più intelligente di tutti voi benché giudicare dell'intelligenza dei propri figli sia una cosa difficile. Cara Angelica, sono un amico di Aileen e Michele. Ho conosciuto Michele in un cineclub. Mi ha portato qualche volta a cena a casa sua. Così ho conosciuto anche Aileen. Sono italiano e mi trovo a Leeds con una borsa di studio. Ho avuto il tuo indirizzo da Michele. Mi aveva detto che ti vedessi a trovare se tornavo in Italia nell'estate. Ti scrivo per farti sapere che tuo fratello ha lasciato la moglie ed è partito per destinazione ignota. La moglie non ti scrive. Primo perché non sa quasi niente l'italiano. Secondo perché sta molto male di spirito. Mi fa una gran pena anche se non mi sento di giudicare Michele e anche lui mi faceva pena quando andavo a trovarlo qui nella pensione molto sporca dove si era cacciato. Aileen vuole che io vi avverta che Michele se n'è andato. Primo perché non sa se lui stesso vi aveva informati del fatto che il loro matrimonio era andato per aria. Secondo perché Michele è partito senza lasciare indirizzo. Terzo perché partendo ha lasciato qui diversi debiti. Lei non intende pagare questi debiti e vi prega di pagarli voi. Michele ha lasciato di debito 300 sterline. Aileen chiede di farle avere queste 300 sterline. Se possibile subito. Ermanno Giustiniani Caramara. Le scrivo per darle una notizia dolorosa. Mio fratello Michele è morto a Bruges in un corteo di studenti. È venuta la polizia e li hanno dispersi. Lui è stato inseguito da un gruppo di fascisti e uno di questi gli ha dato una coltellata. Sembra che lo conoscessero. La strada era deserta. C'era con Michele un suo amico e questo è andato a telefonare alla Croce Rossa. Michele intanto è rimasto solo sul marciapiede. Era una strada dove c'erano tutti i magazzini ed erano chiusi a quell'ora, cioè le dieci di sera. Michele è morto al pronto soccorso dell'ospedale alle 11. Quel suo amico ha telefonato a mia sorella Angelica. Sono andati a Bruges mia sorella, suo marito e Osvaldo Ventura. L'hanno portato in Italia. Michele è stato sepolto ieri a Roma accanto al nostro padre, deceduto lo scorso dicembre come forse lei ricorda. Osvaldo mi ha detto di scriverle. Lui è troppo sconvolto. Sono anch'io sconvolta come lei può immaginare ma cerco di farmi forza. La notizia è uscita su tutti i giornali ma Osvaldo dice che lei certo non legge in giornali. So che lei voleva bene a mio fratello, so che vi scrivevate. Io e lei ci siamo conosciute a una festa in occasione del compleanno di Michele, l'anno passato. Io mi ricordo molto bene di lei. Abbiamo creduto di doverla informare della nostra immensa perdita. Caro Filippo, mi capita ogni tanto di pensare a te. Stamattina mi sono ricordata improvvisamente di un giorno che io e te siamo andati a Courmayeur con la tua macchina a trovare Michele che era là in un campeggio. Michele aveva allora forse 12 anni. Mi ricordo quando l'abbiamo visto davanti alla sua tenda, a torso nudo e con i piedi scalzi negli scarponi. Io mi sono rallegrata di vederlo così bene in salute, abbronzato, tempestato di lentiggini, le sue solite più mille altre. In città certe volte era tanto pallido, usciva poco, suo padre non gli diceva di uscire. Siamo andati in giro con la macchina e a fare merenda in uno chalet. Tu eri di solito nervoso con Michele, non lo amavi, lui non ti amava. Tu dicevi che era un ragazzino viziato, presuntuoso e capriccioso. Lui ti trovava antipatico, non lo diceva ma era chiaro che lo pensava. Però quel giorno tutto è stato bellissimo, calmo, senza una sola parola cattiva fra voi due. Siamo entrati in un negozio dove vendevano oggetti turistici e cartoline. Tu gli hai comperato un cappello verde con la coda di camoscio, era felice. Se l'è cacciato a sghimbescio sui riccioli. Sarà anche stato viziato, ma poteva essere felice con una cosa da niente. Nella macchina si è messo a cantare. Era una canzone che cantava sempre suo padre. Mi irritava di solito perché mi ricordava suo padre con il quale in quel periodo avevo acrimonie. Ma quel giorno ero contenta e tutte le mie acrimonie mi sembravano leggere, dolci e respirabili. La canzone diceva non avemo ni canones, ni tanks, ni aviones, oi Carmela. Anche tu sapevi quella canzone e l'hai continuata. È il terror de los fascistas, rumba la rumba, la rumba là. Ti sembrerò stupida. Ma ti ho scritto questa lettera per ringraziarti di aver cantato quel giorno con Michele e anche di avergli comprato il cappello con la coda di camoscio che ha portato ancora per due o tre anni. Vorrei anche pregarti di un favore. Se tu sai tutte le parole di questa canzone, trascrivimele e mandamele per posta. Ti sembrerà strano, ma ci si attacca a desideri minimi e strani quando in verità non si desidera niente. Come avete sentito, caro Michele, è un romanzo epistolare. Adesso sentiremo l'essico familiare che non è un romanzo epistolare. Però c'è una cosa che mi ha sempre molto colpito e che ho capito grazie a un romanzo non italiano che è altrettanto un romanzo epistolare. Questo romanzo è Dracula di Bram Stoker. Voi sapete come funziona? C'è Jonathan Archer che deve andare a vendere una casa a Londra a un vecchio signore, a un vecchio nobile transilvano. Va lì e comincia a mandare le lettere alla moglie e a riceverle raccontando le cose strane che succedono. A un certo punto cominciano a succedere sempre cose più strane. Scompaiono i bambini. Jonathan Archer vede persone che si arrampicano sulle pareti del castello. A Londra cominciano ad accadere cose strane e tutto questo accade per lettera. Quando le cose diventano stranissime dall'Olanda arriva Van Helsing che è l'ammazza vampiro che dice guardate qui probabilmente c'è uno morto, una creatura dell'oscurità e se noi tutte queste cose ci sembrano così strane significa che non ce ne sono altri. Lui è solo e noi dobbiamo prenderlo. Però siccome non lo conosce nessuno, le nostre lettere, le vostre lettere, le trascrizioni fonografiche, gli avvistamenti che altri fanno della bestia dovranno essere presi come documenti, non come memorie. Da quel momento in poi chi sta leggendo, dopo che Van Helsing ha detto questa cosa, non sa più se è Jonathan Archer che sta scrivendo o è Mina Archer o un altro dei personaggi che sta leggendo. Quindi il lettore è coinvolto attraverso la paura perché ha lo stesso livello ontologico dei personaggi. Adesso, caro Michele, funziona esattamente così. Dopo un po' che tu conosci Adriana, conosci Angelica, conosci Osvaldo, tu non sai più se è Adriana che scrive o Michele che legge e tu non sai più se è Michele che sta, che sta, chi racconta che Michele, ce la posso fare, chi racconta che Michele sta morendo oppure chi è che soffre, perché tu sei esattamente lì, tu non conosci esattamente come non conoscono loro. Lessico familiare funziona allo stesso modo, perché tu entri nella tribù dei Levi, nella tribù dei Ginzburg e che cosa succede? Che Natalia Ginzburg introduce prima tra virgolette o con, quando le parole sono straniere, in corsivo il loro lessico familiare e dopo un po' comincia a utilizzarle. Quindi quel noi, quando dice questo era il nostro latino, questo era il nostro ideoletto, questo è le nostre cose, quel noi diventiamo tutti e quindi coinvolgere per un grande scrittore non significa, come è Natalia Ginzburg, come giustamente scrive Domenico Scarpa, gli invarianti sono le parole e le strutture retoriche di uno scrittore, coinvolgere non significa solo comprendere in senso empatico, in senso di cervello, ma significa essere con il corpo, ontologicamente, nella stessa situazione dei personaggi e questo è quello che farete adesso Margherita Bui con Lessico familiare. Grazie. Sì, speriamo. Oddio mio, che paura. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre suonava, non fate malagrazie. Se inzuppavamo il pane nella salsa, gridava, non leccate i piatti, non fate sbrodeghezzi, non fate potacci. Sbrodeghezzi e potacci erano per mio padre, anche i quadri moderni che non poteva soffrire. Diceva, voi altri non sapete stare a tavola, non siete gente da portare nei loghi. E diceva, voi altri che fate tanti sbrodeghezzi, se foste a una table d'hôté in Inghilterra vi manderebbero subito via. Aveva dell'Inghilterra la più alta stima. Trovava che era nel mondo il più grande esempio di civiltà. Soleva commentare a pranzo le persone che aveva visto nella giornata. Era molto severo nei suoi giudizi e dava dello stupido a tutti. Uno stupido era per lui un sempio. Mi è sembrato un bel sempio, diceva, commentando qualche sua nuova conoscenza. Oltre ai sempi c'erano i negri. Un negro era, per mio padre, chi aveva modi goffi, impacciati e timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue straniere. Ogni atto, gesto nostro che stimava inappropriato veniva definito da lui una negrigura. Ma non siate dei negri, non fate delle negrigure, ci gridava continuamente. La gamma delle negriture era grande, chiamava una negrigura portare nelle gite in montagna scarpette da città, attaccare discorso in treno o per strada con un compagno di viaggio o con un passante, conversare dalla finestra con i vicini di casa, levarsi le scarpe in salotto e scaldarsi i piedi alla bocca del calorifero, lamentarsi nelle gite in montagna per sete, stanchezza o sbucciatura ai piedi, portare nelle gite pietanze cotte e unte e tovagliolini per pulirsi le dita. Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè fontina, marmellata, pere, uova sode. Ed era consentito bere solo del tè, che preparava lui stesso sul fornello a spirito, chinava sul fornello la sua lunga testa accigliata dai rossi capelli a spazzola e riparava la fiamma dal vento con le falde della sua giacca, una giacca di lana color ruggine, spelata e sbrucciacchiata alle tasche, sempre la stessa, nelle vileggiature in montagna. Non era consentito nelle gite né cognac né zucchero a quadretti, essendo questa, lui diceva, roba da negri, e non era consentito fermarsi a fare merenda negli chalet, essendo una negrigura. Una negrigura era anche ripararsi la testa dal sole con un fazzoletto, con un cappellaccio di paglia, o difendersi dalla pioggia con cappucci impermeabili o annodarsi al collo sciarpette. Protezioni care a mia madre, che lei cercava al mattino, quando si partiva in gita, ad insinuare nel sacco da montagna, per noi e per sé, e che mio padre, al trovarsene tra le mani, buttava via incollerito. Nelle gite noi, con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte, col sole che batteva a picco sulla nostra testa in sudore, guardavamo con invidia i negri che andavano su leggeri in scarpette da tennis o sedevano a mangiare la panna ai tavolini degli chalet. Mia madre, il fare gita in montagna, lo chiamava il divertimento che dà il diavolo ai suoi figli. E lei tentava sempre di restare a casa, soprattutto quando si trattava di mangiare fuori, perché amava, dopo mangiato, leggere il giornale e dormire al chiuso sul divano. Passavamo sempre l'estate in montagna, prendevamo una casa in affitto per tre mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a fare la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, torno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto mio padre se ne stava a leggere dalla parte opposta della casa e di tanto in tanto si affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. Si affacciava sospettoso, accigliato e si lamentava con mia madre della nostra serva Natalina, che gli aveva messo in disordine certi libri. La tua cara Natalina, diceva, una demente, diceva, incurante del fatto che la Natalina in cucina potesse dirlo. D'altronde alla frase, quella da venta della Natalina, la Natalina c'era abituata, non se ne offendeva affatto. A volte la sera in montagna mio padre si preparava per gite o ascensioni. Ingenucchiato a terra, ungeva le scarpe sue dei miei fratelli con del grasso di balena. Pensava che lui solo sapesse ungere le scarpe con quel grasso. Poi si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le picozze. Dove avete cacciato la mia piccozza? Suonava. Lidia, Lidia, dove avete cacciato la mia piccozza? Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. Il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile, col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbe ascrepolate e sanguinanti, il naso smalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le supercilie aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa, mio padre stava a leggere il giornale senza pronunciare verbo e bastava o non nulla farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno delle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami e dei negri e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna. Beh, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Noi siamo cinque fratelli, abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola, basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire non siamo venuti a Bergamo per fare campagna o de che cosa spussa l'acido solfidrico per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta fa milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani e degli assiro babilanesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare che sussisterà finché saremo al mondo, recreandosi e risuscitandone i punti più diversi della terra. Quando uno di noi dirà, egregio signor Littman, e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre. Ma finitela con questa storia, l'ho sentita già di tante di quelle volte. Gino era serio, studioso, tranquillo, non picchiava nessuno dei suoi fratelli, andava bene in montagna, era il prediletto di mio padre. Di lui mio padre non diceva che era un asino, diceva però che dava poco spago. A dar corda in casa nostra si chiamava dar spago. Gino infatti dava poco spago perché leggeva sempre e quando gli si parlava rispondeva a monosillabi, senza alzare la testa dal libro. Se Alberto e Mario si picchiavano, non si muoveva e continuava a leggere. E mia madre doveva chiamarlo e scuoterlo, che venisse a dividerli. Leggendo, mangiava pane, ad agio ad agio, una pagnotta dopo l'altra. Ne mangiava più o meno un chilo dopo il pranzo. Gino, gridava mio padre, ma non dai spago, non racconti niente e poi non mangiare tutto quel pane, fai l'indigestione. Gino infatti spesso aveva l'indigestione, era rosso in faccia, ciliato, le sue orecchie a sventola si facevano rosse come il fuoco. Cos'è che Gino ha quel muso? Diceva mio padre a mia madre svegliandola nella notte. Cos'è che ha quella luna? Non si sarà mica messo in qualche pasticcio? Mio padre non sapeva mai riconoscere nei suoi figli i musi delle indigestioni e davanti a una vera indigestione sospettava oscure storie di donne, di cocotte, come diceva lui. A volte la sera portava Gino dai Lopez, sembrandogli il più serio, il più educato, il più presentabile dei suoi figli. Ma Gino aveva il vizio di addormentarsi dopo mangiato e si addormentava anche lì dai Lopez, in una poltrona. I suoi occhi si facevano piccoli, la sua testa dondolava dolcemente e dopo un poco dormiva, con un sorriso svanito e beato e con le mani in grembo. Gino! Urlava mio padre. Ma non dormire, stai dormendo! Voi altri, diceva mio padre, non siete gente da portare nei loghi. Da una parte c'erano Gino e Ranetti e con le montagne, le rocce nere, i cristalli, gli insetti. Dall'altra parte c'era Mario, mia sorella Paola e Terni, i quali detestavano la montagna e amavano le stanze chiuse e tiepide, la penombra e i caffè. Amavano i quadri di Casorati, il teatro di Pirandello, le poesie di Verlaine, le edizioni di Caimard, Proust. Erano due mondi incomunicabili. Io non sapevo ancora se avrei scelto l'uno o l'altro. Mi attiravano tutte e due. Non avevo ancora deciso se nella mia vita avrei studiato i coleotteri, la chimica, la botanica o se invece avrei dipinto quadri o scritto libri. Nel mondo di Rasetti e di Gino era tutto chiaro, tutto si svolgeva alla luce del sole, tutto era plausibile, non c'erano misteri e segreti. E invece nei discorsi che facevano Terni, la Paola e Mario, sul divano in salotto c'era qualcosa di misterioso e di impenetrabile che esercitava su di me una mescolanza di fascino e di spavento. Ma cosa ha Terni con Mario e Paola da ciucciottare? Diceva mio padre e mia madre. Ma stanno sempre lì in un mio padre aveva letto Proust e lei pure, come Terni e la Paola, lo amava moltissimo e raccontò a mio padre che era questo Proust, uno che voleva tanto bene alla sua mamma e alla sua nonna e aveva l'asma e non poteva mai dormire e siccome non sopportava i rumori, aveva foderato di sughero le pareti della sua stanza. Disse mio padre, doveva essere un tanghero. Mia madre non aveva scelto nell'uno o nell'altro di quei due mondi, ma abitava un po' nell'uno e un po' nell'altro e nell'uno e nell'altro stava con gioia perché la sua curiosità non respingeva mai nulla, ma si alimentava di una quantità di bevande o di cibo. Mio padre invece usava gettare sulle cose nuove che non conosceva uno sguardo torvo, pieno di sospetto e i libri che Terni portava in casa. Lui temeva sempre che non fossero adatti per noi, ma sarà adatto per la Paola, chiedeva a mia madre sfogliando la recherche e leggendo qua e là qualche frase. Ma deve essere roba noiosa, diceva poi buttando via il volume e il fatto che fosse roba noiosa lo rassicurava un poco. Sentì una sera mia madre parlare con qualcuno in anticamera e sentì che apriva l'armadio delle lenzuola. Sulla porta a vetri passavano ombre, di notte sentì tossire nella stanza accanto a me, era la stanza di Mario, quando veniva il sabato, ma non poteva essere Mario, non era sabato e sembrava una tosse di uomo vecchio, grasso. Mia madre venendo da me il mattino mi disse che aveva dormito là un certo signor Paolo Ferrari e che era stanco, vecchio, malato. Aveva la tosse e non bisognava fargli tante domande. Il signor Paolo Ferrari era in sala da pranzo che beveva il tè, ma nel vederlo io riconobbi Turati che era venuto in via Pastrengo una volta, ma siccome mi avevano detto che si chiamava Paolo Ferrari, credetti per ubbidienza che fosse insieme Turati e Ferrari e di nuovo verità e menzogna si mescolarono in me. Ferrari era vecchio, grande come un orso e con la barba grigia tagliata in tondo. Aveva il collo della camicia molto largo e la cravatta legata come una corda. Aveva mani piccole e bianche e sfogliava una raccolta delle poesie di Carducci rilegate in rosso. Poi fece una cosa strana, prese il libro in memoria della Kulischoff e vi scrisse una lunga dedica a mia madre, firmò così, Anna e Filippo. Io avevo le idee sempre più confuse, non capivo come potesse lui essere Anna e come potesse essere anche Filippo se invece, come dicevano, era Paolo Ferrari. Sembrava, mio padre e mia madre, sembravano contentissimi che lui fosse lì. Mio padre non faceva sfuriate, si parlava tutti a bassa voce. Appena suonava il campanello Paolo Ferrari traversava il corridoio di corsa e si rifugiava in una stanza in fondo. Era di solito o Lucio o il Lattaio, perché altre persone strane non vennero in quei giorni da noi, traversava il corridoio di corsa, cercando di camminare in punta di piedi, grande ombra di orso lungo i muri del corridoio. La Paola mi disse, non si chiama Ferrari, è Turati, deve scappare dall'Italia, è nascosto, non lo direi a nessuno, neanche a Lucio. Giurai di non dire niente a nessuno, neanche a Lucio, ma avevo una gran voglia di dirlo a Lucio quando veniva a giocare con me. Lucio però non era affatto curioso. Mi diceva sempre che io facevo la curiosa quando mi mettevo a interrogarlo sulle cose di casa sua. I Lopez erano tutti molto segreti, non amavano raccontare le cose della famiglia. Così noi non sapevamo mai di loro se erano ricchi o poveri, ne quanti anni compiva la Frances o nemmeno cosa avevano mangiato a pranzo. Lucio mi disse con indifferenza qui in casa tua c'è un uomo con la barba che scappa via dal salotto appena arrivo io. Sì, gli dissi, Paolo Ferrari. Desideravo che mi facesse ancora domande, ma Lucio non mi domandava niente. Batteva nel muro con un martello per appendere un quadretto che aveva fatto e che mi regalava. Era un quadretto che rappresentava un treno. Lucio aveva la passione dei treni fin da piccolo. Sempre girava intorno per la stanza, sbuffando e soffiando come una locomotiva. Aveva a casa un grande treno elettrico che gli aveva mandato lo zio Mauro dall'Argentina. Gli dissi, non battere così col martello, è vecchio, è malato, è nascosto, non bisogna disturbarlo. Chi? Paolo Ferrari. Paolo Ferrari rimase in casa nostra mi sembra otto o dieci giorni. Furono giorni stranamente tranquilli. Sentivo sempre parlare di un motoscafo. Una sera cenammo presto e capivo che Paolo Ferrari doveva partire. Era stato in quei giorni sempre ilare e sereno, ma quella sera cena sembrava ansioso e si grattava la barba. Poi vennero due o tre uomini con l'impermeabile. Io di loro conoscevo soltanto Adriano. Adriano cominciava a perdere i capelli, aveva ora una testa quasi calva e quadrata, cinta di riccioli cresputi e biondi. Quella sera la sua faccia e i suoi occhi erano come frustati da un colpo di vento. Aveva occhi spaventati, risoluti e allegri. Gli vidi due o tre volte nella vita quegli occhi. Erano gli occhi che aveva quando aiutava una persona a scappare, quando c'era un pericolo o qualcuno da portare in salvo. Paolo Ferrari mi disse in anticamera mentre lo aiutavano a infilarsi il cappotto, non udire mai a nessuno che sono stato qui. Uscì con Adriano e gli altri dall'impermeabile e non lo rividi mai perché morì a Parigi qualche anno più tardi. Quando nacque la mia figlia Alessandra, mia madre rimase a lungo con noi, non le andava di ripartire. Era l'estate del 43, si sperava in una fine prossima della guerra, fu un periodo sereno e furono gli ultimi mesi che passavamo insieme, Leone e io. Mia madre infine partì e io andai ad accompagnarla ad Aquila e mentre aspettavamo la corriera sulla piazza io avevo la sensazione di prepararmi a un lungo distacco, avevo anzi la confusa sensazione di non doverla rivedere mai più. Venne poi il 25 luglio e Leone lasciò il confino e andò a Roma. Io restai ancora là. C'era là un prato che mia madre chiamava del cavallo morto perché aveva trovato un cavallo morto un mattino. Usavo andare su quel prato ogni giorno con i bambini. Sentivo la mancanza di Leone e di mia madre. Quel prato dove ero stata tante volte con loro mi metteva una grande malinconia. Avevo l'animo pieno di tristezza. Poi venne l'armistizio, la breve esultanza e il delirio dell'armistizio e poi due giorni dopo i tedeschi. Sulla strada correvano camion tedeschi. Le colline e il paese erano piene di soldati. C'erano soldati nell'albergo, sulla terrazza, sotto il pergolato e in cucina. Il paese era impietrito dalla paura. Sempre portavo i bambini sul prato del cavallo morto e quando passavano gli aeroplani ci buttavamo sull'erba. Incontravo sempre sulla strada gli altri internati e ci interrogavamo con lo sguardo in silenzio chiedendoci dove andare, che cosa fare. Poi ricevetti una lettera da mia madre. Era anche lei spaventata e non sapeva come aiutarmi. Pensai allora per la prima volta nella mia vita che non c'era per me protezione possibile, che dovevo sbrigarmela da sola. Capii che c'era stata sempre in me, nel mio affetto per mia madre, la sensazione che lei mi avrebbe nelle disgrazie protetto e difeso ma ora restava in me l'affetto soltanto e ogni richiesta e attesa di protezione era da quell'affetto scomparsa e anzi pensavo che forse avrei dovuto io in avvenire proteggerla e difenderla perché ero ormai mia madre molto vecchia, abilita e indifesa. Io ancora stavo a Torino, ma venivo a Roma spesso e mi preparavo a venirci ad abitare definitivamente. Mi ero risposata e mio marito insegnava a Roma. Cercavamo casa e io fra poco avrei portato giù i bambini e ci saremmo installati a Roma per sempre. Andavo a trovare i Balbo. Eravamo sempre amici, parlavamo dei tempi di una volta. Dicevo a Balbo, ti ricordi quando si faceva l'autocritica. Era molto in uso fra noi fare l'autocritica un tempo negli anni del dopoguerra, cioè dopo aver commesso errori, analizzarli e selezionarli a voce alta. Intrecciavamo errori su errori e l'autocritica veniva a sovrapporsi agli errori, si intrecciava e si confondeva con quegli stessi errori al modo come la musica si confonde con le parole di un'opera, ne oscura il senso e se le porta via nel suo ritmo di gloria. Dicevo, ti ricordi quando facevamo i comizi? Anche mio padre aveva fatto una volta un comizio in quegli anni. Gli avevano chiesto di mettere il suo nome nella lista dei candidati al fronte popolare ed era il fronte popolare il contrassegno in cui si presentavano comunisti e socialisti insieme. Lui aveva accettato. Gli avevano detto che doveva fare almeno un comizio, uno solo. Lo invitarono a dire quello che gli pareva, lo condussero in un teatro, lo fecero salire sul palco e mio padre cominciò il suo comizio con queste parole. La scienza è la ricerca della verità. Non parlò che della scienza per una ventina di minuti e la gente taceva, stupita. Disse a un certo punto che le ricerche scientifiche erano in America più progredite che in Russia. La gente sempre più disorientata taceva. Tuttavia nominò ad un tratto incidentalmente Mussolini che lui usava chiamare, disse, l'asino di predappio. Scoppiò allora un fragoloso applauso e mio padre si guardò intorno, stupito, disorientato a sua volta. E fu questo il comizio di mio padre. C'è sempre questa cosa, c'è sempre questa osservazione bellissima di Slavoj Zizek che chiede, come si differenziano i dittatori di destra dai dittatori di sinistra? Tutti quanti si alzano in piedi quando il pubblico applaude, però il dittatore di sinistra applaude insieme al pubblico, quindi ogni volta che qualcuno mi applaude, spero sempre di stare vicino a persone che applaudono, io applaudo per questo motivo, per collocarmi in quella parte di dittatura. Che cosa succede? Abbiamo pochissimi scrittori in Italia in cui l'opera critica sia comparabile all'opera narrativa e Natalia Ginzburg io penso che sia il primo tra questi o la prima tra questi. Allora c'è sempre questa domanda con cui comincia un saggio totem diciamo di Ginoia Bompiani nel 78 che si chiama il critico e il suo personaggio su Wolf e lei dice quando uno scrittore la cui opera critica è confrontabile con l'opera narrativa scrive di un altro scrittore o di se stesso cosa fa? Io penso che continui a scrivere narrativa, tant'è che nella postfazione di Scarpa c'è in questa curatella di Scarpa c'è tutta una sezione di note ai testi, ma non di Scarpa, di note ai testi di Natalia Ginzburg e ai suoi stessi testi. Questo significa che non solo noi come lettori di Natalia Ginzburg siamo allo stesso livello ontologico dei personaggi di Natalia Ginzburg e dunque viviamo nei suoi romanzi, ma anche lei stessa come suo lettore è allo stesso livello della sua opera e questo penso che sia la dimostrazione che i grandi scrittori non smettono mai di giocare e non smettono mai di confondere diciamo memoria e immaginazione e fatti e questo ci dice che i libri, o almeno dice a me e io lo dico a voi, che i libri sono sempre un sentimento, quindi andatevi a leggere Natalia Ginzburg e i libri li trovate allo stand in Audi o in tutte le biblioteche italiane, se non volete leggere andatevelo a ascoltare e gli audiolibri li trovate allo stand Emons, dopodiché io direi basta perché anche ciao, siamo stati qui un'ora e mezza, ciao. Grazie Margherita Bui e grazie Nanni Moretti, grazie a voi, buonasera. Grazie.